Don Matteo 13. Le anticipazioni della quinta puntata. Purtroppo, per Terence Hill, è arrivato il momento di lasciare la fiction. Nella puntata di giovedì 28 aprile, una mattina, Spoleto si risveglia e scopre che in paese non c'è più il loro amato parroco. Neanche il maresciallo Cecchini, nonostante sia il suo miglior amico, non sa cosa gli sia successo. Natalina, ovviamente, è all'oscuro, come tutti. Ma a un certo punto arriva un nuovo personaggio che celeberà la messa alla chiesa di Don Matteo. Si tratta di Don Massimo e dice di essere il suo sostituto. Il fatto che ci sia un sostituto mette ancora più in agitazione gli abitanti. Questa cosa porta i cittadini di Spoleto a pensare che sia accaduto qualcosa di grave. Ma per il momento dovranno accontentarsi di Don Massimo, prete che gira in moto, non in bicicletta come Don Matteo. Anche se in realtà, oltre vent'anni fa, quando la Rai ha deciso di fare questa serie, era previsto che il prete fosse in moto e non in bicicletta. Successivamente, le caratteristiche del personaggio erano state riadattate. Ma adesso si avrà un prete in moto.